Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Moni Sport 07 Siamo qui, adesso è un momento, con una domanda molto molto importante Con una questione molto molto importante che riguarda il mondo Juve Perché se nel mio canale si parla di Juve, di Ferrari Anche se nei prossimi giorni penso che vedete più video inerenti alla Formula 1 Anche perché ora non c'è più una partita ogni tre giorni con la Juve Quindi vi porterò le recensioni post partita, le pagelle post partita Il riassunto della giornata, credo anche qualche video casual sulla Juve Però per il resto cercherò di incentrarmi di più sulla Formula 1 Soprattutto ora che è ripartita perché ho intenzione di portare qualche nuova rubrica Vedremo, vedremo ragazzi, dipende dal tempo che avrò Detto questo, poi siamo venuti a parlare della questione Uscire dall'O2 di Champions per l'Iventus Esattamente più che altro se è un fallimento Perché ragazzi, sì è un fallimento Quanto esattamente è un fallimento questo? Perché comunque sono due anni di fila che usciamo Vabbè, tre anni di fila che usciamo con una squadra abbordabile Ma soprattutto due anni consecutivi dove usciamo per la regola dei gol in trasferta E questo comunque c'è da dire Due anni di fila che esci per la regola dei gol in trasferta Dove sei tu quello che rincorre Perché con il Lione hai rincorso? Perché all'andata hai preso gol in quei 30 secondi dove era l'Elicht fuori E quella è sfiga Perché tu non puoi dire il City al Lione ne farebbe 5 A parte che pure il City è uscito con il Lione però Non puoi dire il City, il PSG al Lione ne farebbe 5 E quindi tu ne hai fatte 2 C'è una differenza di 3 gol E tu ne hai fatte di meno Perché il PSG una volta che ha fatto il primo Quelli devono attaccare E una volta che attaccano Si scoprono un po' E tu riesci a fargli il secondo Successivamente ancora Quelli devono attaccare ancora di più di prima E tu fai il terzo quindi se sei bravo Il quarto e il quinto Ma dire Siamo indietro rispetto alle big È un po' stupido ragazzi Se permettete Perché uno che fa calcio lo sa Quando tu segni Gli avversari un po' si scoprono più di prima A meno che non devono Magari che ne so Devono difendere un 4-0 vinto all'andata E magari si scoprono molto meno Anche se ne vanno in un gol Fa niente Anche se in quel caso Gli fai anche il secondo e il terzo Magari succede come Barcellona PSG di qualche anno fa Però ragazzi È stupido Cioè Ammettiamo Siamo Tutti sulla barca Di dire la Juve ha avuto un po' di sfiga Puoi lasciare stare Che magari puoi dire Dovevi passare lo stesso Se sei la Juventus Penso che siamo d'accordo tutti Che la sfiga si è fatta sentire Due anni consecutive Dove arrivi senza Di Bala Perché gli ultimi quarti di finale Tu li hai passati con Di Bala Poi l'anno dopo Si è uscita i quarti Cioè l'anno dopo Si è uscita i quarti L'anno dopo ancora i quarti L'anno dopo ancora gli ottavi L'anno dopo ancora Ancora gli ottavi Quindi insomma Mini fallimento Se hai cacciato via Pirlo ha anche battuto il Barcellona Ragazzi Quindi Mettetevi un po' d'accordo voi Per me Non è che sia tutto sto Tutto questo Come si dice Fallimento Alla fine abbiamo battuto Atletico e Barcellona Voglio dire Fallimento non è Poi purtroppo Agli ottavi si è uscito Ma per un pizzico di sfiga Ragazzi Alla fine Col Porto Come hai subito i gol Dai Errori di De Miral Errori di Bentancur Ed errori di Cristiano Ronaldo Tre errori nostri Forse il secondo gol loro In apertura del secondo tempo All'andata È stato l'unico gol Un po' più normale Con Lione Come si è stato eliminato Un calcio di rigore Anche lì Quindi rigore Un calcio di rigore Comunque molto dubbio Secondo me E 30 secondi Con il gol di Tussart All'andata Dove non c'era De Ligt in campo Non mi ricordo Se era uscito De Ligt Bonucci Comunque eravamo momentaneamente In 10 uomini Cacciare i Pirlo È un errore Perché vuol dire Cacciando Pirlo Che avresti 4 allenatori In 4 anni Poi c'è la questione Cristiano Ronaldo La questione società È stato fallito il progetto Ragazzi Io lo dico Lo dico da 2 anni Che è stato un errore Per me prendere Ronaldo Ma secondo voi Io Ronaldo Non lo voglio Io dopo i primi 6-7 mesi Che è stato Cristiano Ronaldo Quindi ancora prima Forse In realtà Dopo che siamo usciti Con l'Ajax Perché sennò Sembra che me la tiro Però Mi ero già accorto Di qualcosa prima State parlando Con lo stesso ragazzi Che ha pronosticato La vittoria Della mondiale Della Francia Ragazzi Bastante la ritrosa Non è per vantarmene Però ragazzi Io Guardate il video Prima ancora che iniziassero i mondiali Ho detto La Francia vince Eppure ero un ragazzino Non che ora sia un uomo Perché ho ancora 17 anni Lì ne avevo 15 Anzi Ne avevo 14 Ancora ne dovevo compiere 15 Perché Sono un 2003 2018 Ne dovevo fare 15 È giusto Avevo 14 anni E 11 mesi Tipo una cosa del genere Ma non è perché Siamo un veggente Io insomma Vedo i giocatori Che hanno le squadre Vedo i fattori Poi è chiaro Un calcio di rigore Inesistente Ti scombina Tutto il pronostico Diciamo così Ma questo anche per le schedine Dunque insomma Pirlo Rispetto a Sarri È un gran vantaggio Però Pirlo ha portato morale Sarri non era riuscito in questo Nel portare morale Nonostante Sarri Forse è una persona Molto più aperta E simpatica di Pirlo Però insomma Abbiamo conosciuto Anche comunque Un'ottima persona Che è Sarri È stato mandato via Sarri Non per i risultati Ma per il morale Che ha influito Nelle teste dei giocatori Se proprio dobbiamo dare La colpa alla società Ragazzi Perché è giusto Anche dare la colpa Alla società Ma non per il progetto Ronaldo Per gli acquisti Fatti in generale Perché la rosa Qualitativamente Ci siamo ragazzi Alla fine Di dire ringiovanimento Ragazzi Kulusevski De Ligt Chiesa De Miral Bentancur Artur McKennie Sono tutti giovani Forti Molto forti In più abbiamo anche Fagioli Diciamo fra botta Ma Dubito un po' Abbiamo prestato Rovella Traore Luca Pellegrini Comunque ragazzi Giovani ce li abbiamo E anche abbastanza Promettenti Se permettete Abbiamo qualche Becchietto Che alla fine Quattro sono Buffon Bonucci Chiellini E Ronaldo Per il resto Quelli che sono Sulla Trentina Sono Quadrato Morata Mettiamoci anche Di Bala Anche se 27enne Come Rabiot Ramsey Trentenni Aleksandro E Danilo Trentenni Però per il resto Al bene o male Siamo tutti giovani E ragazzi Soprattutto a centrocampo Sono tutti giovani Tranne Ramsey Anche se a centrocampo Facciamo un po' cagare Ci vorrebbe Qualche bel centrocampista Diciamo la verità Se vogliamo dare La coppa alla società Non per gli acquisti Fatti nel 2020 Ma per gli acquisti Nel 2019 Lì Hai messo una rosa A disposizione di Sarri Non adatta Sono iniziati I problemi del morale Pirlo il morale L'ha riportato Ma per rimediare Al disastro prima Hai preso comunque Cinque giocatori forti Perché ragazzi L'ultima sessione di campagna Estima non è andata male Alla fine Arthur Non potete dire Non è buono McKennie Uguale Chiesa Volete dire Non è buono Chiesa Alla fine L'anno prima è arrivato Dell'Ictro L'unico acquisto buono Per il resto Tutte cagate Perché Rabiot Ramsey Non è che Iguain Il ritorno Non è che siano Tutti quelli acquisti Quindi insomma ragazzi Per La situazione è questa Alla fine I buoni acquisti Sono arrivati Ma Ma è stato un rimedio Alla compagna Estiva del 2020 Del 2019 Quella del 2020 Perché tutti i cinque acquisti Tutti azzeccati sono Forse l'unico Cos'è così È Kulusevski Ma per il resto Chiesa Arthur McKennie E Chi è stato preso Quest'estate Chiesa Arthur McKennie Kulusevski E Morata Alla fine Tutti acquisti azzeccati Cioè Morata 16 gol 11 assist Chiesa 11 gol E 7 assist McKennie 5 gol E 2 assist Non avevamo un centrocampista Così prolifico Nei tempi di Vitale Pogba Arthur Non ha fatto gol E assist Ha fatto solo un gol Però per il resto Si è dimostrato Di essere il nostro Miglior centrocampista Ragazzi Quindi colpa La società Ma fino a un certo punto Ragazzi Se andiamo invece a vedere Ciò che ci rimane Perché la Supercoppa Comunque l'hai vinta La Champions Non la vinci Però Avevamo ancora in palio Campionato e Coppa Italia Sei in Coppa Italia Sei in finale E hai il 50% Sulla cassa Di vincere questa finale Di Coppa Italia In campionato È più dura Hai 10 punti Da recuperare all'Inter Vabbè Con lo scontro diretto Con Napoli Magari diventerebbero 7 Però hai 10 punti Subito che perderà punti Se proprio ce ne mettiamo Ne può perdere 2 In queste partite Metti che l'Inter Perde 2 punti Qui E sta a più 10 Subitati Dopo In 3 giorni Cioè in 3 giorni A 3 partite In 7 giorni Napoli Spezza E Verona Può perdere 3 punti Qui Secondo me Tra Napoli Spezza e Verona Napoli e Spezza Sono in trasferta Il Verona in casa L'Inter Qualche punticino Lo può perdere Non mettiamone 3 Ragioniamo sempre Con la sicurezza Ne perde 2 Più i 2 di prima Sono 4 punti Successivamente Hai il Crotone Vabbè Con Crotone vinci Sampdoria Quindi la quarta ultima Con la Sampdoria in casa E poi ci sono le ultime 3 Finora l'Inter ha preso Solo 4 punti Perché con Crotone e Sampdoria Per me vince sicuro Perché è una partita a settimana Con Crotone e Sampdoria La prepari bene Hai perso già i punti Con Napoli E magari uno Tra Torino e Sassuola Vagliari e Bologna Magari li perde Hai perso 4 punti Hai le ultime 3 Roma In casa Juve Fuori casa Udinese In casa L'Udinese È facile Diventa difficile Nel momento in cui Diventa difficile Nel momento in cui L'Udinese si deve salvare Quindi tra Roma e Juve Tu puoi perdere 3 punti Sommati a 2 di prima 3 più 2 più 2 Fanno 7 punti Hai perso quei 7 punti Che la Juve doveva recuperare su di te Ammesso che la Juve Dei vinca tutte Perché tra Roma Juve e Sampdoria Quindi 3 partite in 7 giorni Magari Sampdoria e Roma le vinci Però con Juve magari la perdi Hai 7 punti E arrivi all'ultima giornata Che ti puoi giocare tutto Con l'Udinese Metti che tra Udinese e Roma Ne puoi perdere altri 2 Perché ragazzi Sono comunque Tante partite Qualche punto per strada L'Inter Non sembra Ma può perderlo Sono 9 punti Magari o 7 Che l'Inter può perdere Ammesso che la Juve Le vinca tutte Arrivi all'ultima giornata Con l'Udinese Che ora è decimo L'Udinese Ma se casomai L'Udinese Dovesse avere un crollo totale Con i giocatori Qualità di più che ha Pereira De Lofeu De Paul E arriva a giocarsi La salvezza L'ultima giornata Con la partita Non è più facile Quindi devi sperare Anche in questi Mini fattori altrui Perché se l'Udinese Arriva lì Con la salvezza Già ottenuta L'Inter ha vinto Lo scudetto Stessa cosa Se la Roma Arriva allo scontro Con l'Inter Quinta in classifica Sesta in classifica O comunque quarta Con appena un punto di vantaggio Sulli inseguitrici Perché se la Roma Arriva allo scontro Con l'Inter Con più Di tre punti di vantaggio L'Inter ha vinto Ragazzi Se la Roma Arriva con l'Inter Che ha Un punto Di vantaggio Oppure è sotto Il quarto posto Quella partita Per l'Inter Non è più sfontata Perché la Roma Entra in campo Con la mentalità Di dire Io questa la posso perdere E voi non sapete Quanto psicologicamente Questo Influenza I giocatori Se la Roma Invece arriva lì Con le qualità che ha Con il fatto Che non ha mai vinto Un big match E dice Questa io la voglio vincere Per l'Inter Non si fa più semplice Perché la Juve È la Juve Per la mentalità che ha Quindi anche se Una partita è ipertosta La Juve Se gioca bene Vince La Juve Se gioca bene E non ha contro episodi Non vuol dire Che abbiamo un rigore contro Eh Ma che Che abbiamo Gli arbitri contro Voglio dire Ma episodi Vuol dire magari Le traverse di quadrato Al novantesimo Quelle cose là No? Questo voglio dire episodi Quindi influenza tutto Se la Roma Se la Sampdoria Magari si deve salvare lì Se il Crotone Ha bisogno disperato Di punti Magari Ma non credo Il Crotone È troppo scontato Se il Napoli Si fa giocare all'accesso In Champions League Perché se il Napoli Arriva con l'Inter Che ha 12 punti Da recuperare Dubito che quella partita La va a vincere Quindi insomma ragazzi A parte che il Napoli Si è fatto pur risposta La data Li mortacci Loro Cioè noi dobbiamo Correre tutto questo Con la questione Per una partita in meno Ragazzi La Juventus Ormai in campionato Così le può recuperare Perché ragazzi E tra l'altro Non puoi vincerle tutte 4 punti per strada Si è permesso di perdersi Ma 4 punti ragazzi Dove comunque Dove cazzo L'ho scritto La partita della Juve Perché ovviamente Non mi ricordo a memoria Hai Cagliari e Beneventura E quando rientra Da la sosta C'è il Torino Queste tre Le vince per forza Con Napoli Puoi pure pareggiare Ma Cagliari Benevento e Torino Se non le vinci Non hai lo stimolo mentale Per vincerle dopo Se adesso Quella col Cagliari La va a pareggiare Non hai gli stimoli dopo Per vincerle tutte Per me Quindi si tratta tutto Da iniziare bene Dal Cagliari Nei big match Noi Roma Lazio Milan Inter E Napoli In trasferta Le abbiamo già affrontate tutte Fuori casa Ora affronteremo Solo l'Atalanta Napoli Milan E Inter Ce le ha in casa Le puoi vincere tutte e tre Perché vincere lo scontro diretto È fondamentale Vuol dire annullare la distanza Con l'Inter Vincere lo scontro diretto Perché? Perché all'andata L'Inter ha vinto Contro di te Quindi se tu al ritorno Vinci Ottieni quei tre punti È come quando in matematica Semplifichi tre terzi Togli il tre Togli il tre Punto E rimani uno Punto ragazzi Punto Quindi Ora hai Solo in trasferta All'Atalanta Ma l'Atalanta è pericolosa In trasferta Come è pericolosa in casa Queste Bisogna vincere ragazzi I big match Vanno vinti Puoi solo per metterti Un pareggio Nei big match O con Napoli O con l'Atalanta Ma Milan e Inter Sono da vincere Sono da vincere ragazzi Per il resto Oltre ai big match Hai Parma Fiorentina Udinese Quindi insomma Pareggi un big match E un match solo Tra Cagliari Benevento Torino Genoa Parma Fiorentina Udinese Sassuola E Bologna Puoi pareggiarne Solo una ragazzi Puoi permetterti di perdere Appena 4 punti Di punti ne hai già persi assai Ora hai solo il campionato Puoi permetterti di perdere Solo 4 punti Se l'Inter comincia un rollino Dove perde più punti ragazzi? Puoi permetterti di perdere punti Anche tu Perché la tua testa ti dice quello Questo ci ha insegnato L'anno scorso L'anno scorso Come pareggiava l'Inter Pareggiavamo anche noi E' una questione di mentalità Che tu trasmetti ai giocatori Pirlo e Braum in questo C'è bisogno anche Di una buona dosi di culo Perché se si continuano Infortunare tutti Siamo messi male ragazzi E purtroppo la Rosa Ripeto E' buonissima qualitativamente Ma sta messa molto male Numericamente Che è una cosa diversa Noi numericamente Siamo coperti con Frabotta Fagioli Bernardeschi Con tutto il rispetto Per Bernardeschi Che sta anche giocando benino E questa è la situazione ragazzi Detto questo Questa era la mia analisi ragazzi Alla Lele Adani proprio Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se è piaciuto Limitare il mi piace Che se conterrano Dislike Come te se siete d'accordo Vi siete d'accordo con me Se non è ancora fatto Iscrivetevi al canale In descrizione Il link per seguirmi su Instagram Da Monosport07 È tutto E noi Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti